Sono sempre più numerosi gruppi musicali emergenti formati da giovani che si esibiscono dal vivo nei locali o negli spazi adibiti ai concerti live. Diversi nella regione Marche ed in provincia di Macerata sono i concorsi rivolti alle nuove band, spesso composte da amici che si ritrovano per condividere questa comune passione. Alcuni gruppi si sono già fatti conoscere, mentre altri stanno cercando di farsi strada nel caotico mondo della musica, tentando di portare alla ribalta i loro brani. A Tolentino c'è un istituto musicale che prepara i giovani a suonare insieme. Allora quest'anno abbiamo pensato di sviluppare due tipologie di corsi nuovi, il primo è il corso di musica d'insieme rivolto ai ragazzi che fanno musica moderna, quindi ci rivolgiamo ai ragazzi che suonano rock, pop, jazz, blues eccetera. L'idea è quella di avvicinare alla scuola sia ragazzi che hanno già delle band precostituite, quindi già che suonano, sappiamo che a Tolentino c'è una realtà piuttosto viva di ragazzi che suonano già, e poi anche di rivolgerci ai nostri ragazzi per cercare di creare delle band all'interno della scuola, quindi delle aggregazioni dagli ansambri da proporre in giro. Ecco, quindi questa sarà la novità di quest'anno insomma. I ragazzi possono venire qui sia in singoli che in formazioni musicali? Diciamo che possono venire singolarmente qualora non avessero già una band, nel caso avessero una band già formata potrebbero iscriversi al corso con la band e quindi provare a suonare, a curare l'aspetto musicale sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico, stilistico, direttamente qui nella scuola su questo palco che abbiamo allestito. Grazie a tutti! Grazie a tutti!